Premiato da Carmine Caputo, anche con il premio G-Metal, è Goran Abramovic. Allora, voglio ringraziare perché è un onore a lui come serbo di partecipare su questa gara, specialmente di essere concorrente ai famosi pizzaioli napoletani. E' la terza volta che partecipano a questo tipo di gara in tutta Italia. Ho avuto, ho preso di lavorare, di fare pizze dai migliori pizzaioli italiani guardando imparato. Sì, scusate, imparato dei migliori pizzaioli italiani. Chestitam svim takmićarima, sudijama e organizatorom a ovunque grande takmićenze. Ma è stesso tempo ringraziare tutti i partecipanti, al staff, al giurio e al altra. Viva pizza, viva Napoli, viva Italia, viva Napoli.